Nonostante la sentenza del TAR e le diffide legali, resta ancora risolto il problema riguardante la bambina affetta da sindrome di Downing e crisi epilettiche, che frequenta la scuola statale di Morrodoro nel Terramano. Un vero e proprio calvario, così è stato definito dalla famiglia che inizio dieci anni fa, fin dalla scuola dell'infanzia, quando alla bambina sono state ridotte le ore di sostegno a solo nove ore a settimana, a fronte di una diagnosi funzionale della ASRE che prevedeva un rapporto di uno a uno, cioè l'orario completo di un docente di sostegno. Una situazione su cui il Tarrabruzzo, con sentenza del 2013, ha sancito il diritto della minore ad essere affiancata da un insegnante di sostegno qualificato nel corso dell'intero orario scolastico. Ma nonostante questo, negli ultimi due anni né la scuola né l'ufficio scolastico provinciale hanno trovato una soluzione al problema. Il risultato è che dal settembre del 2017 alla bambina sono stati assegnati prima un insegnante ordinario di inglese e poi uno di educazione fisica al posto di un docente di sostegno qualificato, accampando come scusa la carenza di organico. Una delicata situazione su cui è intervenuto a sostegno della piccola anche il presidente della provincia di Teramo, Diego di Bonaventura. Un caso paradossale, dico io, perché in Italia le sentenze devono essere applicate. Non capisco perché quando tra private e private le sentenze vengono applicate, quando il pubblico che deve applicare una sentenza invece viene disattesa. E qui chiedo il principio della euguaglianza, dico, perché è impossibile che ci siano due trattamenti tra privato e pubblico. Stamattina sentirò anche il provveditorato perché bisogna agire affinché i diritti vengano tutelati. Dico sempre che in queste situazioni possiamo immaginare e mai capire quello che una famiglia possa vivere a casa, la disabilità, perché solo chi la vive può capire. Noi possiamo solamente immaginare, ecco, è chi fa parte delle istituzioni, deve solamente garantire il diritto di ogni cittadino. Ecco, perciò l'invito che faccio alla scuola, al provveditorato, subito ad applicare la sentenza. In questa vicenda un'altra cosa bella della famiglia è che è un atto di bontà, perché è una famiglia che ha la determinazione, la forza di tutelare la propria figlia, ma dà anche un altro messaggio, quello è che è una battaglia per tutti gli altri figli e gli altri ragazzi che non hanno possibilità, che non hanno famiglie, che hanno la forza anche economica di battagliare per vedere tutelati i propri diritti.